Siamo qui a God Save the Wine, a Firenze, per la prima volta la Signor Vino. Sono stato attirato qui da Andrea perché secondo lui non è detto che Brunello sia il re dei vini. Ce la deve vedere con il Barolo, il Barbaresco, l'Aglianico e l'Amarone. Quindi io per esempio mi posso entrare a Signor Vino e farmi un giro e assaggiare questi. Quindi posso anche valutarlo io. Però già che ci sono, visto che comunque alla fine Signor Vino è un'anoteca, quindi magari se mi piace qualcosa la posso portare via. Cioè chiaramente lo pago, però ecco, grazie, perfetto. Mi puoi guardare, io sai che quando bevo sono concentrato, me la puoi tenere te? Perfetto, grazie. Allora andiamo.